C'è una mostra che sta ottenendo un successo strepitoso a New York in questa stagione ed è dedicata al grande pittore romantico francese Eugène Delacroix. Cerchiamo di analizzare qui non tanto l'arte di Delacroix ma perché questa mostra è un grande successo è un pittore romantico il re dei romantici francesi è un pittore estremamente colto è un pittore certamente di ottimo livello ed è un pittore che racconta la storia la sua storia personale con una storia personale secondo me da analizzare per capirne anche l'arte perché Delacroix nasce in una famiglia altolocata era una famiglia molto legata al mondo della politica e si dice non è mai stato provato ma c'è un forte sospetto che lui fosse in realtà un figlio naturale dell'abbate Tayran al quale assomigliava enormemente e che durante la vita è stato per lui il mentore prediletto l'uomo che lo ha formato. Diciamo questo perché è assolutamente anomalo nella vita di un pittore non solo questa ascendenza ma soprattutto questi rapporti politici soprattutto con un personaggio assolutamente geniale ma anche controverso e diabolico come l'abbate Tayran. Dicevamo che Delacroix è un pittore colto decisamente più colto dei suoi colleghi degli artisti che lavoravano in quel periodo si cibava quotidianamente dei classici da Dante a Shakespeare ma anche gli autori francesi come Vittorio Hugo di cui divenne amico e c'è una relazione molto interessante con Stendhal il quale stroncò uno dei suoi quadri e la reazione di Delacroix è molto interessante perché lui volle conoscerlo e riuscì a diventare amico come a voler convincere ti sei sbagliato tu Stendhal a stroncarmi in realtà io sono un grande artista. Nella mostra al Metropolitan si vedono tutti i temi classici del romanticismo dell'epoca, un po' di esotismo, un pochino di misticismo e un rapporto soprattutto con la mitologia classica. Uno dei quadri più belli, più importanti e anche abbastanza impressionanti è quello che raffigura Medea che sta per uccidere i propri figli. Ma forse il quadro più bello è ben più piccolo di dimensioni rispetto alla Medea e tanti altri quadri, è un altro ritratto. È molto struggente anche questo ma è soprattutto molto compiuto perché lascia una sensazione di mistero rispetto a se stesso. Dicevamo che Delacroix è un uomo colto che ha voluto studiare ma è da autodidatta mettendosi all'inizio al seguito di Geren che a sua volta era un seguace di David e poi diventando amico di Theodore Jericho, del quale ama profondamente il famoso quadro, forse il suo capolavoro di Jericho, la zattera della medusa che lui riproduce in varie versioni. Per esempio una si chiama la zattera di Dante, vediamo Dante all'inferno in un momento abbastanza drammatico quando sembra che questa zattera possa essere sommersa dai flutti. Cos'è che lo colpisce? Ecco, l'uomo o la donna in un momento di estrema difficoltà, in un momento estremo, in un momento dove sembra che tutta la sua vita, tutta la sua esistenza, tutti i suoi aneliti possano essere messi in gioco. Questo è il cuore della sua arte e il cuore anche del romanticismo secondo come lo intende lo stesso Delacroix. Una volta dichiarò che voleva piacere ai contadini nella stessa misura in cui poteva piacere ai gransignori, ai nobili, agli aristocrati e anche al suo mentore abate Tayeran. E poi un'altra volta raccontò che la cosa più importante della sua esistenza era la pittura. Eppure, vedendo questa bella mostra, importante, ricca, varia, non si ha la sensazione che l'arte fosse l'essenza, fosse l'imprescindibile della vita di Delacroix stesso, ma piuttosto un modo di esprimersi che potrebbe in qualche modo essere soltanto un mezzo, ma non necessariamente il fine, come era per alcuni romantici. Insomma, la mostra è interessante perché sembra smentire l'essenza che ci è sempre stata tramandata del mondo di Delacroix, il romanticismo stesso. E in fondo c'è da dire che, pensando la sua amicizia con Stendhal, amicizia conquistata sul campo, amicizia con Hugo, amicizia con Alexandre Dumas, con i grandi scrittori romantici dell'epoca, rimane il dubbio che forse il problema maggiore di quest'artista, che è certamente notevole, è che forse colto, troppo colto per essere veramente un grande. Un saluto da Central Park West.